E' un'altra cosa. Io faccio meglio me stesso e ciò che ho fatto. So quello che voglio da me e dagli altri. Ho più chiaro in cuor mio che delle mete regalate non hanno valore, poiché vanno prima sognate e poi guadagnate. Questa è la mia conclusione, al di là delle vette raggiunte, dei luoghi esplorati, dei successi ottenuti. Questo è Bonatti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tantissime cose, insomma. Non esorcizziamo la malattia parlando della malattia, parliamo d'altro. Nessuno ha la pressione troppo alta. Stanno tutti nel range, qualcuno ha la frequenza un po' più alta, perché dopo uno sforzo è normale. Però vanno bene, insomma. Questi pazienti dopo la dimissione fanno un periodo di riabilitazione presso la nostra struttura ospedaliera. dove sotto la guida ovviamente di un medico riabilitatore, sempre cardiologo, e di infermiere e fisioterapista specializzate, svolgono delle attività di palestra che gli permettono di migliorare quella che è la loro funzione cardiovascolare. Ma soprattutto, cosa molto importante, che poi sta alla base, diciamo così, del progetto che ha dato luogo a questa iniziativa, quella di valutare chiaramente le loro capacità di ripresa di una vita normale. Ho avuto un intervento nel gennaio 2005, sostituzione di valvola aortica e bypass. Sono clinicamente guarito, però avevo, come dire, psicologicamente non ero guarito, mi sentivo malato. Sono guarito psicologicamente due anni fa, quando sono venuto con voi e abbiamo fatto la cresta. Sulla cresta ho ritrovato l'equilibrio e sono guarito psicologicamente. Sulla cresta ho ritrovato con voi. Sulla cresta ho ritrovato con voi. Sulla cresta ho ritrovato con voi. Sulla crexto psicologicamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.